Voto finale. Onorevole Locatelli, per dichiarazione di voto, prego. Grazie, signor Presidente. La componente socialista è favorevole a derogare i contributi alle Fondazioni Teatro Reggio di Parma e Roma Europa e Cultura per sostenere i due festival, il Verdi di Parma e Busseto ed il Roma Europa Festival, perché la musica, l'arte e la cultura di qualità si finanziano sempre, oserei dire a prescindere. A conferma della qualità dei due festival vorrei dire alcune parole. Conosco il Festival Verdi, la specificità della sua proposta culturale, il rilievo internazionale e la bellezza dei luoghi in cui si svolge, a partire dal piccolo teatro di Busseto. È un festival che si occupa non solo di proporre rappresentazioni. Adesso sono collegate attività di ricerca, di formazione, soprattutto di sostegno e ricerca di giovani talenti. Frequentando con una certa regolarità quei luoghi, voglio sottolineare come questo festival contribuisca al turismo anche internazionale e quindi alla valorizzazione del territorio attraverso la musica e la cultura, due strumenti eccezionali. Conosco meno direttamente il Roma Europa Festival. Il suo cartellone propone danze e teatro contemporanei, musica e cinema e la sua cifra sono innovazione e sperimentazione. In sintesi il meglio della creazione artistica contemporanea, con un'attenzione particolare a giovani artisti ed artiste, qui viene fornita una vetrina importante. Quindi è giusto finanziare questi festival, ma questo non basta. E lo dico assecondando anche una sollecitazione, forse un poco partigiana, perché ci sono altri festival che meritano attenzione. Ad esempio il Festival Donizzetti Opera di Bergamo, La mia città. Le rappresentazioni del Teatro Donizzetti, ora Festival Donizzetti Opera di cui andiamo molto orgogliosi, sino ad ora hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito della stagione lirica. Dal prossimo anno, e mi rivolgo in particolare alla sottosegretaria Ilaria Borletti e a tutti coloro che si occupano dei finanziamenti del Festival, per il triennio finito 2018-20, il Festival Donizzetti Opera si è candidato al finanziamento come uno dei festival importanti per la sua eccellenza del nostro Paese. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Palese.